Musica Bene amici, eccoci, avevamo organizzato questa giornata delle Proloco, la giornata nazionale delle Proloco pensando ad un evento da fare al centro in piazza San Giovanni, ma vi devo dire che ci sono state delle piccole difficoltà perché qualcuno mi ha detto sai in piazza San Giovanni ormai non si possono fare le cose perché un territorio un po' difficile di sera dalle 7, dalle 8 diventa quasi terra di nessuno, io non ci ho creduto naturalmente però sappiamo che in quegli orari ci sono molti ragazzi che girano, sono allegri, si divertono però spesso danno anche dei problemi alle iniziative, ricordate per esempio che a tutto volume qualche settimana fa si è dovuto provvedere a fare una specie di schermo per distaccare il piano di San Giovanni dalla piazza di San Giovanni dove si svolgevano le manifestazioni quindi abbiamo pensato di fare questa manifestazione all'aperto con la gente, poi ci sono anche persone che ci hanno scritto da fuori che volevano partecipare, però abbiamo capito che comunque il 9 luglio alle 8 di sera costringe la gente a venire lì forse è un po' troppo e quindi l'abbiamo trasformato in un appuntamento televisivo come abbiamo già fatto un paio di anni fa parleremo però di quello che era il tema, cioè fare vedere alcune foto e io ho chiamato qua in studio il nostro socio onorario della Prologo di Lagusa Giovanni Di Stefano che è il responsabile culturale della Prologo, Giovanni lascia un po' di soldi, ti diamo troppi soldi e poi tu hai un problema di tasse, rinunciaci, così l'ho sempre fatto, allora Giovanni Di Stefano lo conoscete tutti, è un archeologo, siamo amici da una vita e con lui abbiamo fatto delle esperienze straordinarie, qualche anno fa abbiamo parlato della giornata delle Prologo ricordando il 2003, sono passati 20 anni Giovanni ricordando il famoso guerriero di Castiglione, ma tu te lo ricordi nonostante l'età? Assolutamente sì e posso dirti che recentemente una delle personalità che allora tu hai coinvolto come Prologo a Berlino, la professoressa Paola Pelagatti mi ha proprio chiesto alcune informazioni sul volume che fu poi pubblicato da Sellerio a seguito di quel convegno di studi organizzato ai musei di Stato di Berlino in occasione dell'esposizione appunto al Pergamon della Vastra con il guerriero di Castiglione. Che ricordi bellissimi Giovanni. Quindi è un ricordo che è ormai entrato nella storia della storia del guerriero, nella storia della storiografia possiamo dire così sul guerriero di Castiglione e non solo perché ricordo che insomma in quella occasione c'era il professore Elmayer, che era uno dei più famosi archeologi della Germania, la dottoressa Plaz, anche lei. La dottoressa Plaz e c'era il professore Giuliano, Antonio Giuliano, ordinario di archeologia classica all'Università di Roma. Dunque fu veramente un'occasione straordinaria e ricordo molto bene come tu hai detto quando due anni fa abbiamo ripercorso le varie tappe che portarono all'esposizione, al trasporto, all'imballaggio, al trasporto e all'esposizione del guerriero ai musei di Stato di Berlino. Fu credo la più importante manifestazione organizzata da Ragusa, credo in tutta la sua storia, al di fuori dei confini nazionali. Quindi ritengo che quella operazione voluta dal prologo di Ragusa in collaborazione con la sua pretendenza di allora, fu un'operazione di grande livello culturale. Perché secondo te non si possono fare più queste cose? Qui da noi. Io ritengo che se allora sono state fatte, così come… Si potevano fare. Si potranno fare, si potranno ripetere. Ovviamente nulla è casuale, occorrono sforzi, occorrono energie, occorrono dei programmi, programmi culturali. Dunque bisogna ritornare a fare cultura ad altissimi livelli nella nostra città. E credo che il ruolo della prologo di Ragusa, che è stata sempre un ruolo forte e determinato su alcuni temi, bisognerà veramente continuarlo, perché io non posso dimenticare le battaglie fatte dalla tua emittente, da te personalmente, dalla prologo di Ragusa per la riapertura del museo archeologico di Ragusa. Ma ora è aperto, funziona? Ora sì, sì, certo, è aperto, assolutamente sì. E dunque anche questo va in continuità con quelle attività del passato che tanto lustro hanno portato alla città di Ragusa, in Europa. Mi fai ricordare una cosa, abbiamo fatto la mostra degli Elmi nel 2010, un'altra cosa straordinaria. Ho detto che c'era una progettualità, c'era una continuità, c'erano delle idee, c'erano delle forti energie e la grande collaborazione con i musei di stato di Berlino portò alla mostra sugli Elmi, portò alla mostra sugli Argenti di Paternò, quindi i bronzi di Bosco Reale. Stiamo soltanto parlando di cose che oggi sono veramente difficili da pensare, ma non impossibili. Io Giovanni penso che comunque non impossibili, credo che ci voglia la volontà di fare queste cose. A parte le conoscenze, perché dobbiamo dire che noi, grazie a Dio, in quel periodo a Berlino eravamo di casa. Io ricordo quando arrivavamo, il Maier, la plazza, il direttore Scholl, era con noi, ci apriva tutte le porte con la grande disponibilità. Nulla avviene per caso. I contatti, le persone, le attività, i progetti, i programmi che si condividono e che si condividevano sono portate poi avanti dalle persone. Quindi bisognerebbe ripuntare, ricostruire questa atmosfera culturale che purtroppo abbiamo perso. Forse ci siamo chiusi troppo nel nostro piccolo. Il castello, le cose, le abbiamo lasciato senza pensare ad uscire. Ma sai, queste sono atmosfere internazionali che si debbono vivere, che si debbono progettare. Sai, è come la frequentazione delle grandi manifestazioni a livello nazionale. Penso agli avvenimenti legati al turismo archeologico, penso a Firenze, a Turisma, penso a Pestum. Ecco, il fatto di non andare a queste manifestazioni, magari dice, ha un costo, però tu perdi il contatto. Costi, devo dire, molto ridotti rispetto a tante altre iniziative che magari a livello locale hanno un riscontro assolutamente comunale. L'intraguardare questi momenti di forte promozione a livello nazionale e internazionale. Io ricordo sempre, grazie alla Prologo e alla tua attività, io ricordo sempre a Berlino l'ITB, ricordo una conferenza fatta nella terrazza in Italia con più di 70 giornalisti specializzati in turismo e tutto questo purtroppo ci manca. C'era il rapporto, allora devo dire, con l'ENIT che ci dava sempre ampi spazi. L'ENIT della Germania, l'ENIT di Berlino, l'ENIT di Monaco. Anche a Monaco siamo andati, abbiamo fatto una bellissima iniziativa al Museo di Monaco. Stiamo parlando dei musei di Stato di Berlino, del museo storico di Monaco. Copenaghen, queste cose le abbiamo fatte e le abbiamo fatte noi. Dunque bisogna puntare su queste atmosfere. Un po' di nostalgia, un po' di nostalgia. A pensare quante cose straordinarie sono state fatte insieme con Giovanni... Ma hanno avuto dei ritorni. Non dimentichiamo che non solo i musei di Stato ci diedero la possibilità di organizzare qui le mostre sugli elmi, le mostre sul tesoro di Bosco Reale, le mostre sugli argenti di Paternò, ma non dimentichiamo che Jan Jakobsen, direttore della gliptoteca di Copenaghen, al Museo di Camarina portò il famoso sarcofago in marmo che abbiamo tenuto per circa 3-5 mesi. Poi ci diede la possibilità di esporre, sempre proveniente da Copenaghen, dalla gliptoteca, cinque ritratti di imperatori romani. Tutto questo era un clima. Questo lo abbiamo avuto gratuitamente. Avevamo un nome. Certo, ma laddove ci presentavamo avevamo una grande stima. Dunque cultura, spessore culturale, che si è costruito negli anni. Allora bisogna rifrequentare le fiere del turismo, bisogna frequentare Pestum, la borsa mediterranea del turismo archeologico, bisogna frequentare Firenze. Io l'ho fatto con il Comune di Modica e come Museo Civico di Modica, dove abbiamo portato per 4 anni di seguito le attività che facciamo. Abbiamo fatto delle conferenze, delle esposizioni, abbiamo avuto anche degli stand nei quali si sono soffermate migliaia di persone. Non è tanto, qualcuno può dire, ma che cosa ci porti a Pestum? Secondo me è anche importante il contatto, riaprire certe strade che abbiamo chiuso. Devo dire che con l'archeoclub di Enzo Piazzese abbiamo continuato questa tradizione, però occorre rinvestire su tutte queste operazioni. Altrimenti saremo sempre in un ambito molto localistico. Molto piccolo, molto piccolo. E in questo settore un picca ma vasta non sta bene. Non sta bene perché le grandi città, come Ragusa, ma attenzione, noi parliamo di tutta la Sicilia, qui siamo a Ragusa, è chiaro, la nostra area di copertura. Ma pensate per esempio a Grigento col fatto che diventerà capitale italiana della cultura. Stanno facendo cose dell'altro mondo. Io saluto il sindaco di Agrigento che è sempre a disposizione quando lo chiamo e loro stanno facendo grandi cose. Già i progetti hanno fatto una stupidaggine, ma hanno messo il pulmino elettrico per andare avanti e indietro nel parco, che era una cosa importantissima, perché non tutti sono in grado di farci tutto il parco a piedi. Una grande sinergia fra le amministrazioni locali e le amministrazioni regionali e la direzione del parco archeologico. Dunque è questa pratica che bisogna rinnovare. Ripeto, altrimenti rimarremo una periferia, un margine e la città di Ragusa non lo merita. Il sindaco che ha mantenuto per sé queste dele che poi chiaramente avrà dato, si parla appunto di, anzi ha dato l'incarico all'ex assessore, però non può fermarsi a dire vabbè l'ordinaria amministrazione. Qua bisogna uscire, bisogna cambiare passo e non ti dico candidarci, perché ci possiamo, perché ci siamo solo noi, però noi possiamo fare un programma culturale per il 2024. Ogni volta che andiamo alle conferenze stampa di iniziative io dico, scusa ma questo è in un programma del 2023? No, allora sono sempre degli eventi avulsi da soli, perché c'è chi l'organizza che si impegna, ma non c'è questo programma culturale delle città da Grigetto, ci vorrebbe davvero, ora Grigetto lo sta facendo perché deve, ma lo ha fatto Trapali, Trapali sta facendo un grandissimo lavoro. Ora iniziano a Trapali, vabbè, il luglio musicale, fanno l'opera fra qualche giorno, c'è proprio la stagione operistica, fanno grandi cose. Di grande richiamo, ripeto Mario noi ci siamo riusciti, tu ci sei riuscito in quegli anni a fare delle cose veramente straordinarie, bisogna soltanto programmare e mettersi al lavoro. Bene, allora chiudiamo questa parentesi perché poi era venuto qua per parlare di un'altra cosa. Devo dire che l'amico Giorgio Colosi, l'ingegnere Colosi, ci ha dato alcune foto, tante a dire la verità, ma noi non le possiamo fare tutte perché sarebbe davvero una follia. Abbiamo alcuni argomenti, partiamo da Piazza San Giovanni, io vorrei fare vedere in rapida successione, per esempio Piazza San Giovanni. Giovanni quando tu hai qualcosa da sottolineare lo possiamo fare, questa è la Piazza San Giovanni prima di Palazzolina. Ecco, questa è la Piazza San Giovanni. La Piazza San Giovanni è il cuore della città della città settecentesca, della città post terremoto, della città che guadagna l'altopiano. Questo era come era prima del Palazzolina. Eh sì, ed è la città che si costruisce all'interno di questo reticolo urbanistico che si pone in una straordinaria modernità. La piazza sui due livelli si completava, non solo con lo straordinario prospetto della chiesa di San Giovanni. E della Badia. E della Badia, certamente, lungo l'asse della strada maestra, ma si completava nella sua semplicità proprio con questo contesto architettonico moderato, una cortina di prospetti che facevano da pandan con il prospetto della chiesa. Purtroppo la città che cambia, la città che ha subito negli anni sessanta queste violenze urbanistiche. Ci fu negli anni settanta una specie di follia del cemento. Eh sì. Era quel sistema. Queste sono immagini, probabilmente sono degli anni trenta o qualcosa. Però c'è il prospetto del... Guarda, guarda, questa immagine è incredibile. Eh sì, perché era il cuore della città. Poi ci sono delle auto, probabilmente è un corteo storico, forse quello di Mussolino o del Redi che passava in quella... Guardate cosa c'è quella piazza. I due livelli della piazza, il prospetto, i prospetti che davano, come si vede molto bene ancora in questa immagine, sono un completamento straordinario. Le sostituzioni urbanistiche di quegli anni, ai quali tu accennavi del cemento, purtroppo oggi ci privano di uno scenario. Ecco. Questo, ora, io però devo dirti che a guardarlo così non è che è brutto. È il contesto, purtroppo. È il contesto. Perché forse questa costruzione in un altro posto... Eh sì, è come a Scicli l'intervento sulla piazza. Sono quegli interventi che presi singolarmente hanno una loro sintassi. Però il problema è la contestualizzazione con lo scenario urbano. Ecco. Senti, questa qui un attimo, facciamo notare che non c'era per esempio la Banca Agricola che poi era il Banco di Sicilia. Sì, era il Banco di Sicilia. Quindi qua siamo proprio nei primi del Novecento. Sì. E anche la costruzione poi successiva a questa immagine, in fondo riprende le stesse volumetrie, a parte la torretta angolare, ma ha una sua logica. Non è una... Anzi, abbellisce la piazza. La completa. Giovanni, sì, la completa. Allora, questa era l'idea. Ti dicevo, ci hanno scritto anche degli antropologi. A proposito, lo saluto, c'è un amico che arriva dal Canada che vuole parlare di come sta crescendo il centro. Avremo lo spazio per farlo, ci volevamo incontrare all'appuntamento di domenica, però è stato un po' difficile. Quindi diciamo, cosa fareste tu su Piazza San Giovanni? Piazza San Giovanni... Chiaramente ci vogliono i tecnici, noi... E' chiaro. Noi possiamo solo sognare per certi aspetti. Piazza San Giovanni va vista nelle due dimensioni. Una dimensione urbana, direi, alla luce del sole e una dimensione urbana notturna. Questo è un altro scempio. E' il... Colazzo con Siti Quattro, come si chiama? Sì, è sulla strada maestra, con il colonnato. Anche questo poi... Abbattuto per fare il Banco di Sicilia. Poi interrotto, abbattuto. E dunque, quali sono le possibili... Il Banco di Sicilia non si può abbattere. Beh, ormai non credo che sia un po' anche anacronistico pensare ad abbattimenti, vanno consegnati alla storia, però si possono realizzare dei correttivi, si possono realizzare delle riambientazioni. Piazza San Giovanni va vista sia nelle ore diurne che nelle ore notturne. Va vista anche sotto una luce diversa, così come l'intera porzione del quadrilatero, via Roma, Corso Italia, Piazza San Giovanni, e un bacino architettonico di grandissimi valori. Anche perché questa immagine è bellissima. Questo è un taglio straordinario. Ma bellissimo quella chiesa. Cioè, è davvero un angolo che... ma negli anni 70 c'era la sovrintendenza. Io me lo ricordo che non c'era. Ma tu sei... visto che hai lavorato lì... No, le sovrintendenze c'erano. Era la sovrintendenza... Di Siracusa? A Catania. A Catania. Che era la sovrintendenza ai monumenti che si occupava in quegli anni. Ma glielo disse qualcuno? Ma stanno facendo sto palazzo? Beh, ritengo proprio di sì. Ci fu tutto un dibattito che si è sviluppato e che è stato anche, ricordo alcuni decenni fa, ripreso dall'architetto Nini Cintolo, da Italia Nostra, dall'ingegnere Zipelli. Furono allora, mi ricordo, i primi ripensamenti su queste degradazioni. Quindi pensare a tu, visto che è un palazzo comunque che dovrebbe essere rivisto a punto di vista antisismico, dalla sicurezza, se sarebbe buttarlo giù e rifarlo sarebbe... Questi sono dei temi di architettura, di politica urbanistica, però è chiaro che questo schema... Il prospetto con dietro la villetta e poi si arrivava alla prefettura, che addirittura manco c'è qui. Quindi qua siamo... no, ci sono le macchine, ma non si vede bene la prefettura. Doveva già esserci. Giovanni, io ti voglio far vedere alcune cose, per esempio andiamo a Piazza Poste, no? Che ci sono, non c'è da criticare nulla, però se le facciamo vedere velocemente, Piazza Poste, poi andiamo un attimo a Ibla, alcune cose che abbiamo fatto bene, come per esempio il Viadotto e la chiesa di San Vincenzo Ferreri, ecco, ci facciamo questa cacchiana. Piazza Poste, ci sono tante foto e si vede anche, ecco, come fu fatta. C'è scritto 35, mi pare, qui c'era anche già il monumento, si sta facendo a Piazza Poste, un solo piano. Un solo piano, stiamo parlando di interventi architettonici di qualità. Ah, questa per esempio, non so se la sai, a Piazza Poste davanti c'era un'arena. Sì, c'era l'arena, sì, sì. C'era un'arena... Io non l'ho mai vissuta, ovviamente, non potevamo esserci, però ricordo... Un'arena a Piazza Poste con dietro lo sfondo, c'è scritto Arena Littoria, che novità originale, anche quella. Ma no, guarda che bella come cosa. Anche questo, diciamo... Ora ci fanno le manifestazioni. È un tema, no? Cioè dire, gli inserimenti di luoghi che sono teatro, di attività, no? Di attività culturali, cinematografiche, di intrattenimento nel cuore della città, perché a tutto volume, a grande presa, perché si svolge negli esterni della città. Abbiamo bisogno di riguadagnare gli spazi, abbiamo bisogno di vivere i nostri spazi urbani, abbiamo bisogno di vivere le dimensioni delle architetture urbane. Guarda, riguardiamola questa foto, Regia, che era... È molto... Guarda, c'è il chiosco, c'era il verde nella piazza, c'era il verde nella piazza, e beh, ma non era male così. Non c'era la via, era tutt'uno dal chiosco. Ha una sua logica, ha una sua geometria, l'inserimento del palazzo, delle poste, che è, ripeto, assolutamente di grande qualità architettonica, e l'inserimento nel tessuto urbano ha un suo spessore, insomma. E questa è una bella foto. Il palazzo della Banca d'Italia. Banca d'Italia. Sai cosa mi hanno detto? Che con queste nuove, diciamo, utilizzazioni, no? Hanno abbattuto quella che era la sala per il pubblico, al palazzo... Che forse tu non ti ricordi perché non frequentavi la banca d'Italia. Ma era fatta con marmi, avani, io ce l'ho usato un paio di volte, era molto bella, e ora questa nuova rivisitazione, che è tutta smart working, tutta cosa, si è dimenticata della bellezza del palazzo. Questo non lo so. Ma tu non lo sei. Vale anche per altri contesti, ad esempio Piazza Libertà, con gli edifici che circondano Piazza Libertà. Ora ne parleremo. Quindi qua vediamo anche il secondo piano di Piazza Poste. Sì. Quindi perché fu dopo fatto un secondo piano, e guardate le macchine, certo meglio senza macchine. Sì, è chiaro, ma... Il distributore di benzina me lo ricordo. Sono il distributore di benzina, ce lo ricordiamo tutti. Beh, queste immagini sono importanti perché testimoniano e fermano un momento, è un momento che ormai abbiamo consegnato alla storia, cioè dire il centro storico, le piazze svuotate dalle macchine, oggi è un'assoluta prassi, però abbiamo vissuto anche questi momenti. Andiamo velocemente con questa piazza e poi andiamo in Piazza Libertà, regia, se è possibile. Ecco, questa è una donata dei tempi andati, perché era proprio all'inizio della costruzione, forse l'inaugurazione del museo, perché ancora qua si vede, non era completata la piazza, dove c'era l'arena Littoria, ora non c'era più e già stanno chiudendo la piazza, o l'arena era dopo, non lo so, forse una volta l'hanno chiuso e ci hanno fatto l'arena. Andiamo avanti, regia, vediamo un po' di questa piazza e poi andiamo in Piazza Libertà, che merita un'attenzione, forse già l'abbiamo vista, va bene, passiamo se è possibile a Piazza Libertà, perché Piazza Libertà, non ci dimentichiamo che è stata un'opera di un architetto importantissimo. Piazza Libertà è la proiezione della città fascista verso il polo della stazione ferroviaria, superando il ponte, superando la vallata, quindi l'asse via Roma a Piazza Libertà diventa l'asse di proiezione della nuova espansione. E questa foto è veramente bella, perché riesce a portarci ad una geometria veramente essenziale e razionale di questo impianto, per cui l'idea della Piazza delle Adunanze, che era, ahimè, abbastanza usuale in quegli anni, è espressa con questi cubi, con questi volumi, che abbracciano letteralmente lo spazio centrale. Non c'erano palme, non c'erano alberi, era stata pensata così. Era stata pensata così, certamente, proprio per assolvere a queste funzioni. Perché c'era l'arengario, c'era l'arengario, quindi là c'erano. Andiamo avanti, ci sono delle immagini. E questa piazza, ecco. Questa è l'immagine con la neve. Sì, però è interessante perché la piazza è un tutt'uno con l'edificio, oggi sede tra l'altro della soprintendenza, e del cortile interno, fra la soprintendenza e l'edificio scolastico, che era il luogo delle esercitazioni sportive, e perpendicolare alla piazza. Viale, Viale, Tenente Lena, a inizio della piazza. E infatti. Che ancora non c'era nulla. E il prolungamento, non solo visivo, è il prolungamento fisico della città che si proietta verso la stazione ferroviaria. Che si intravede sulla destra, e davanti vediamo il palazzo, che ancora c'è, in Piazza del Popolo. Sì, certo. E quindi un palazzo molto bello. E l'altro polo. E quindi a destra, come vedete, era tutta roccia. Eh sì. Perché era la città nuova. Era la città nuova, non c'era nulla. E dunque, è il nuovo impianto urbano di Ragusa. Vediamo, scorriamo ancora. Queste sono delle immagini molto interessanti, molto belle, che andrebbero messe in un museo della città, a proposito di musei. Per spiegare... Guarda, questa, Giovanni, ora, ma questa la dobbiamo spiegare un attimo. questa è Viale Trentelena, prima che ci fosse qualunque cosa. Si vede dietro la piazza, con la torre dietro. Quindi questa è prima del palazzo, della scuola, prima del cinema. È incredibile, proprio non c'era assolutamente niente. No. Sono da mettere in un museo. Sono, sì, perché l'immagine di una città la si deve percepire, la si deve offrire a... Torre del Littorio e Viale Trentelena. E Viale Trentelena, infatti. La si deve offrire ai cittadini, la si deve offrire come luogo di memoria, ma di studio, di comprensione. e lo si deve... lo si può fare attraverso le immagini d'epoca, come queste che stiamo vedendo. Questa è incredibile. Qua siamo nel 34, 33, 34. Più o meno. Perché la piazza è fatta, la torre è fatta, ma non c'è nulla dopo Piazza Libertà. Sì. Proprio nulla, scusa, qualche casa. Ritengo di sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. Questa è ancora Piazza Libertà e ci usavano sì. I Pullman. I Pullman, come? Ce li ricordiamo, ce li ricordiamo molto bene. I Pullman posteggiati... Eh beh, era una piazza. ...di marciapiedi, certo. Andiamo avanti. Una piazza che ha vissuto tante vicende, è chiaro. A proposito di musei della città, un museo della città, tra virgolette, moderna, per spiegare, per spiegare, a chiunque, ai visitatori, ai giovani, come questa città è cresciuta. Questa fa parte della storia. Queste immagini sono veramente straordinarie, significative. Questa è Piazza Libertà, vista dalla torre, non c'è il palazzo dell'ora cos'era, dei mutilati, e quindi non sappiamo se c'era... C'è l'emiciclo. L'emiciclo, però era abbozzato. Era appena abbozzato. E c'era comunque un'adunanza, come si vede. C'è uno col braccio alzato. Vabbè. Che guarda. Però, sei, importante una cosa da vedere, che il colore, perché la piazza era bianca e nera. Ah, certo, sì. Anche questo sui colori... Perché era di pece. Era di pietra pece. Il rivestimento della parte bassa, sì. Ma era anche un effetto scenico particolare. Sono queste memorie, queste memorie anche... C'è un attimo di... Anche queste memorie cromatiche della città sono importanti, proprio per percepire i valori, i valori urbanistici. Perché allora lo fece Ernesto Lapadula, un grande architetto. Assolutamente. Perché qualcuno dice, ah, ma allora nel ventennio furono mandati a Ragusa gli artisti più eccelsi. Perché c'era il Cambellotti, c'era Lapadula, c'era... Vabbè, questo... Vabbè, tu da vecchio... Capisco, capisco. Capisco le motivazioni per cui queste importanti, importante personalità del mondo dell'architettura e dell'urbanistica furono messe sul mercato a Ragusa. E' una città nuova. Era la città nuova, una città che era diventata capovolgo di provincia. Però attenzione a guardare questi fenomeni, se mi permetti, su una scala più provinciale. Perché non dobbiamo dimenticare che mentre a Ragusa si mettevano in atto grandi personalità, grandi opere pubbliche, altri comuni della provincia, penso a Vittoria, penso... soffrivano situazioni ambientali veramente difficili. Quindi attenzione a certi revisionismi che non fanno storia. Bene, questo è un tema che ritengo non possiamo dimenticare. Perché in questa città che noi stiamo vedendo, scusami se dico questo, ma il mio cuore sente di doverlo dire, in questa città che stiamo vedendo, dove sono state realizzate queste grandi opere pubbliche, beh, in questa città c'erano momenti nei quali i bambini delle classi inferiori venivano venduti ai massari, venivano affidati. quindi... Ma forse questo è un po' prima. ...un tasso di povertà c'era un tasso di povertà che non possiamo dimenticare. Vabbè, ma questo è chiaro. Era un periodo un po' così... ...esaltandoci in queste grandi opere. Andiamo avanti per vedere... La storia è una storia molto più complessiva. La storia ha sempre parecchi lati per essere vista e letta. Direi che va letta in una complessità che è quella dell'economia, che è quella delle classi sociali, che è quella per carità dei grandi interventi urbanistici. Andiamo avanti, vediamo... E poi dovremmo andare un attimo a Ibla per vedere... Andiamo avanti, se è possibile regia Piazza Libertà, si dovrebbe vedere ancora qualcosa di... questa addirittura non c'era Piazza Libertà. Non c'era Piazza Libertà. E quindi siamo da questa parte, ancora bisognava fare il ponte e quindi guarda, andiamo avanti, così riusciamo a vedere... Splendide immagini, eh? Sì, sì, ma infatti, mi dispiace che non è venuto l'amico Giorgio, che lui è quella. Qui siamo già intorno agli anni 60, 70, c'è il palazzo... Però non c'è Palazzo Tumino. Palazzo Tumino ancora. Non c'è Palazzo Tumino, il posteggio dei Pullman sulla sinistra e quindi ora lo stiamo facendo un nuovo da un'altra parte e insomma questa è la mia fase urbanistica interessante. Ecco, questi palazzi così insomma sul cilio. andiamo ancora andiamo avanti perché come dicevo vorrei andare ad alcune cose che invece sono state importantissime per questa città. Andiamo a cosa ci propone la regia se no andiamo a Ibla che abbiamo alcune foto di Ibla lì però ci sono degli interventi che sono stati posso dire eccezionali. no? Vabbè questa è una foto di Ibla si vede il cavalcavia sì no? Quindi si vede sulla destra il cavalcavia che poi fu fatto credo negli anni sessanta sì che doveva essere pensate il prolungamento della via Natalelli non so quale ingegnere pensò una cosa del genere era la città che veniva circondata da queste circonvallazioni chiamiamole così di cemento armato che si proiettavano in fondo verso la strada per Catania no? Sì era la strada per Giarratana che era l'unica per andare a Catania però questi gigantismi questi gigantismi architettonici insomma sono stati uno dei più grandi mali del paesaggio architettonico di Ragusa questa sempre la parte di Ibla ma in cui non la possiamo in questo momento individuare vediamo se andiamo ancora avanti beh questa è via del mercato questa è una bella immagine però stavola facendo la via del mercato sì perché ovviamente l'esigenza essendo l'abitato di Ibla sostanzialmente un abitato medievale sul quale poi si è sovrapposto la città ricostruita dopo il terremoto del 1693 l'esigenza era di avere delle vie anche veloci per cui tutto il lato settentrionale della collina di Ibla fu appunto interessata dalla via del mercato che era essenziale per poter entrare in città praticamente senza esterna perché è costruita su dei su dei ponti diciamo sì ci sono queste architetture di sostegno non è non è scavata è proprio costruita appositamente però devo dire che questo inserimento era bello è stato direi dimensionato ad una scala adeguata sono stati gli interventi della ex circonvallazione assolutamente fuori scala queste sono ancora zone particolarmente non individuabili scorriamo ancora voglio vedere ecco questa è San Vincenzo Ferreri San Vincenzo Ferreri sì questo è un progetto una cosa interessante questo fu un tema che questo fu della sindaco di Pasquale me lo ricordo io perfettamente abbattere l'istituto Ipsia di Pasquale o Chessari no no di Pasquale questo è il San Vincenzo Ferreri Chessari fu il 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 cavalcavia questa no sicuro questo fu Giorgio Colosi uno dei temi questo fu proprio Giorgio Colosi uno dei temi che investì allora tutta la città io ricordo ero in commissione centri storici e questo abbattimento ebbe ebbe tanti pareri a favore e contro però sai si è fatto una piazza è venuto fuori questa è proprio la piazza che viene fuori sì diciamo che abbiamo rivisto il colonnato interno del chiostro del convento attaccato a San Vincenzo Ferreri e Giovanni non mi direi che non ti piace perché fu un intervento no fu molto discusso certo io partecipai a queste a queste discussioni e mi ricordo che allora come soprintendenza abbiamo fatto anche dei lavori per intercettare le le i resti del convento questo invece è il cavalcavia e questo è il cavalcavia questa fu un'operazione anche questa Giorgio Chessere sì anche se fu criticato anche allora e va beh ma è chiaro che questi interventi sono degli interventi così macroscopici che interessano il tessuto il tessuto storico della città è giusto che siano stati al centro di un dibattito e forse ci eravamo abituati però liberandola liberando tutta la diciamo il costone fu un intervento questo intelligente perché fu un ripensamento no di di una di una strada di un'arteria che era veramente fuori dalla logica fuori dalla storia e no questo appunto fuori dalla logica hai ragione solo per ricordarlo perché su questo ho fatto un attimo di studi la teoria era che bisognava collegare via Natalelli scendendo a fianco alla vallata Santa Domenica per poi ritrovarsi in conquisto Cavalcavia per accelerare diciamo la percorrenza per andare a Giarratana che poi da lì si insomma era una follia però il prospetto meridionale della collina di Ibra è stato fortemente intaccato violentato liberato è una bella cosa assolutamente migliorativo certo poi sulle realizzazioni della via ex circonvallazione di Oclaviano qualcuno poi questo va bene questo è credo una delle piazze più belle che ci ha restituito il barocco il tardo barocco siciliano ma sulla piazza d'uomo non credo che ci siano mai stati interventi di nessun genere forse il lampione ma niente di importante una geometria una prospettiva una tridimensionalità anche nella posizione della chiesa con questo prospetto forse di Ibra non abbiamo più niente se non abbiamo più niente per esempio ci sono c'è il teatro il cinema marino vediamo il teatro della concordia se c'è un attimo una cosa del genere già caro Giovanni abbiamo fatto 45 minuti quindi tra un pochino possiamo anche chiudere vediamo cosa ci propone la regia questo è il cinema marino il teatro della concordia come era negli anni 70 70 si entrava sulla destra c'è la facciata poi c'erano le scale che salivano su e si entrava nel cinema è un prospetto è un gioiello senza dubbio architettonico di di grande assoluto di grande grande rispetto di grande valore ma lo sai che ne parliamo da vent'anni di queste cose e questo è l'interno come era una volta come era che aveva già e questo invece era come era agli inizi degli anni 30 degli anni 30 quando fu acquistato perché era un teatro un teatro a tutti gli effetti si 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 fu acquistato e diventò poi un cinema il cinema beh il teatro aveva una sua beh degli anni 1880 70 ragusa come le altre città modica vittoria aveva un suo teatro purtroppo le vicende appunto politiche storiche trasformazioni di acquisti questo è un disegno tipicamente del bandello questo tipo di cosa queste colonne queste colonne si forse il progetto che era stato pensato e non so ecco e questo come sarebbe dovuto essere sì con il disegno di allora ma chiaramente non sarà così non fu realizzato poi di questo ne parleremo allora regia non so se c'è un altro gruppo di foto forse c'è marino via roma forse via roma andiamo a chiudere con queste ultime immagini vediamo ecco guarda questa è una cosa che ti voglio fare vedere in via roma sì lo vedi quelle quelle colonne sì sulla sinistra sì quella è via roma sì ma via roma prima che ci facessero i palazzi nuovi siamo all'angolo anni 50 siamo quasi all'angolo con via sant'anna no guarda sì via sant'anna è il prima sulla destra si vede l'angolo della cattedrale quindi siamo dove c'era il turati dove c'è il bar perfetto e qui a destra ci sono quei palazzi nuovi dove poi i negozi ci sono i negozi c'era quel quel colonnato dove c'era un bel palazzo dunque non me lo ricordo no chiaramente non credo che almeno la nostra generazione se lo possa ricordare sì anni 50 penso infatti però era bella la via roma sì la via roma era quella strada che chiudeva il quadrilatero della della cattedrale tant'è che la parte retrostante della cattedrale è tangente alla via roma guarda qui ancora c'è sì siamo anni 60 sicuramente ancora c'è quel palazzo io proprio non me lo ricordo proprio però ancora c'è sì prima del mediterraneo che si vede sì sì un po' dopo ed ecco il mediterraneo dunque via roma aveva questa doppia funzione di lanciare la città al di là della valle e dunque di essere il nuovo perno urbanistico che si innestava alla via maestra ma era anche la via che chiudeva il quadrilatero della cattedrale non dimentichiamo la presenza delle chiesette che oggi non ci sono più sì ma si vedono la si vedono sì la chiesetta di Sant'Anna ad esempio che era all'angolo eccola qua che cosa era questa chiesetta così come l'attuale questa c'è ancora San Sebastiano beh questa chiesetta la chiesetta di San Sebastiano la chiesetta di San Vito che fu demolita dove fu costruita la banca in via in corso Italia cosa erano queste chiesette attorno c'era la chiesetta vicino al palazzo vero certo cosa erano queste chiesette erano la trasposizione nel nuovo tessuto urbano settecentesco di Ragusa superiore della vecchia città dei punti religiosi che erano nella vecchia sede di Ibla attorno a San Giovanni attorno alla chiesa di San Giovanni a Ragusa Ibla pre-terremoto c'era un San Vito c'era un San Sebastiano e c'era la chiesa di Sant'Anna e quindi queste erano state trasportate dal punto di vista direi topologico queste questi punti di riferimento furono ribaltati nella città nuova nella città nuova perché gli abitanti di questa città erano legati è chiaro che avevano una idea dell'antica posizione urbanistica di questi siti religiosi e allora quasi come una città che si guardava allo specchio una nuova città che si guardava allo specchio della vecchia città questo ribaltamento realizzò San Giovanni al centro San Vito a sinistra Sant'Anna a destra con San Sebastiano purtroppo aver perso le architetture perché sono state demolite ahimè ci ha fatto perdere questa anche perché nella via principale chiaramente il terreno valeva tanto e quindi a battere la chiesetta si poteva fare un palazzo la vita purtroppo è così scorriamo un po' vediamo però questa questa dinamica no delle proiezioni urbanistiche andrebbe fermata andrebbe raccontata ma oggi c'è molta più attenzione però sì ma purtroppo questi sono ormai persi questi sono fatti certo ma oggi non credo che qualcuno possa dire abbattiamo Santa Lucia e ne facciamo uno nuovo grazie a Dio oggi no però andrebbero documentate questi momenti e queste immagini andrebbero veramente tesorizzate sì complimenti a Giorgio Colosi a te vediamo ancora cosa abbiamo se abbiamo qualcos'altro e poi ci avviamo alla chiusura perché penso che ormai comunque chi ci ha seguito ecco e questo è importante sì queste sono le scale questa è la fine di via Roma sì perché la via Roma che allora è la via addolorata prima arrivava qui arrivava qui e finiva e finiva e qui ci hanno fatto il ponte quindi qui siamo quindi negli anni venti venti quindici venti certo c'era la scalinata che portava giù alla vallata Santa Domenica da qui giustamente fu pensato di fare il ponte è un tesoro iconografico un tesoro iconografico certamente bisognerebbe portarle qualcuno che poi ci scrive delle didascarie questa è la storia della città la storia visiva della città e ti dico ancora cosa come lanciamo tempo addietro quando volevamo fare il museo della ragusanità con lo scomparso Mimmi Arezzo lo scomparso Mimmi Arezzo ecco questa è un'idea di poter fare qualcosa che contenga tutte queste immagini una riflessione sulla storia farle un po' più grandi e fare davvero un museo perché stanno facendo per esempio ti faccio un esempio e qua ti tiro con i capelli non so come credevo dirai questi capelli non ce l'ho più allora noi abbiamo preso 6 milioni per fare la Villa Moltisanti che ne pensi tu di Villa Moltisanti queste ville che oggi sono inserite nella nuova espansione di Ragusa hanno hanno credo che sia corretto che vengano restaurate il problema è cosa facere e beh questo ovviamente attiene a scelte di natura urbanistica e politica per esempio individuare una cosa dove poter fare una una collezione di foto di immagini della città con la storia Ragusa ha personalità personaggi studiosi Giorgio Colosi ma penso a Giorgio Colosi è molto un tecnico diciamo penso a professore Giorgio Flaccavento tale da poter scrivere una storia della città per immagini per fermare questa questa storia urbana ma si possono ovviamente inserire planimetrie i piani regolatori è tutta una città che si deve ripensare cioè fare per esempio una specie di non di museo ma una specie di archivio è un'esposizione storico della città in immagini e magari chiedere alle persone che hanno perché molte cose queste sono state date donate hanno fatto altre cose potrebbe essere anche la Proloco potrebbe essere attiva in questa prospettiva bene va bene dai a questo punto chiudiamo la nostra trasmissione abbiamo fatto quasi un'ora a dire la verità Giovanni quindi abbiamo già annoiato abbastanza i nostri telespettatori anche se sono convinto che non si devono essere annoiati penso di no vedendo queste immagini credo si siano annoiati molto curioso allora giornata delle Proloco 9 luglio purtroppo questa cosa sarebbe stato più difficile sarebbe stato bello farlo all'aperto ma mi rendo conto che avremmo anche impiegato chissà quanto tempo però così in televisione resta è una cosa che resta che possiamo rimandare in onda altre volte e quindi certamente anche questo è un patrimonio della città un patrimonio della Proloco un patrimonio di Ragusa ringrazio Giovanni Di Stefano che tra l'altro vi ricordo è anche il responsabile culturale della Proloco socio onorario e quindi è stata una bella chiacchierata se vi siete divertiti se no ci potevamo fare grazie Giovanni grazie ai telespettatori grazie grazie a tutti